Ha resistito un paio di giorni Donald Trump a questo libro Fiamme e furia, in cui viene accusato dai suoi stessi collaboratori di essere un idiota. E poi questa mattina, poco dopo l'alba, non erano ancora le 7, si è aggrappato al suo terapista, al suo salvagente personale quando è sconvolto, a Twitter. Ha sparato tre tweet nell'arco di pochi minuti per rispondere, per dire non solo, non sono affatto un idiota, ma sono intelligente, molto intelligente. Sono un genio stabile, perché a volte si dice che la genialità sia un po' instabile nei veri geni. Sono uno che ha avuto un enorme successo nella vita contando sulla mia intelligenza, prima come uomo d'affari, poi come stella televisiva e come presidente eletto al primo colpo. Ditemi voi se questa non è intelligenza, dimenticando che molti altri sono stati eletti al primo colpo e al primo tentativo. La risposta quindi a questa insistente voce che viene ripetuta e anche dai suoi stessi collaboratori, che lui sia fondamentalmente un cretino o sia uno inadatto a occupare un posto nel quale ci sono anche pressioni psicologiche colossali, la sua prima risposta è forse la cosa più preoccupante uscita in questi giorni. Perché è ovvio che chi è un genio, chi è intelligentissimo, non ha bisogno di dirlo agli altri. Non deve sottolineare di essere uno con il quoziente di intelligenza più alto del mondo, sfidare i suoi collaboratori a una gara di quozienti di intelligenza, come lui ha fatto con il segretario di Stato Tillerson. È quindi un segno esattamente del contrario, che l'uomo ha dei seri problemi di stabilità mentale. Immaginate un presidente americano che deve all'alba di un sabato, dopo aver fuggito al controllo dei suoi collaboratori, che erano terrorizzati proprio di questo, che corre, si accrappa al telefonino come un bambino che si sente indispettito dai compagni di scuola e dice questi giornalisti falsi, questi media, tutti controllati dai democratici, naturalmente dicono che sono un cretino, no io sono un genio, io sono un genio. Speriamo che la sua stanza da letto sia imbottita, perché qui sta diventando davvero preoccupante l'atteggiamento mentale del presidente Trump. Quello che ricordiamolo ha a disposizione un bottone rosso, anzi il bottone rosso più grande del mondo, perché lui lo ha detto a Kim Jong-un, io ho un bottone più grande.